ciao ragazzi allora niente voglio darvi una piccola dritta per quanto riguarda la barba se doveste essere interessati a farvela crescere abbastanza lunga guardate la mia la mia non è ancora lunghissima però diciamo che sta crescendo e doveste pensare che il parrocchiere di per sé abbia buon gusto occhio perché non è così l'ho constatato sulla mia pelle io non mi ero mai fatto crescere una barba così no di solito non sono mai stato un amante della barba però ho voluto provare visto che hanno i maschi cresce ho detto perché non provare una volta nella vita e le prime volte me la facevo crescere corta no curata e tutto quanto e dopo mi è venuto in mente ho detto quasi quasi mi faccio crescere tipo la barba dei vichinghi no infatti la mia idea sarebbe quella di farla crescere ancora un po e poi fare le traccine che partono dai baffi la prima volta ovvero l'anno scorso mi sono affidato ai barbieri no nel senso che semplicemente andavo lì dicendo barba i capelli e la barba voglio farla crescere però non davo delle direttive su come la volevo semplicemente dicevo ho intenzione di farmi crescere la barba e i barbieri tramite questo input facevano un taglio che piaceva a loro ma non era lo stesso che piaceva a me le prime volte adesso vi faccio vedere lateralmente vedete vedete che la mia barba ha una forma abbastanza aerodinamica vista vista di lato e dal davanti ha una bella forma no è lunga però non spara ai lati insomma è una bella barba diciamo che qua spara un po in fondo infatti non so se la prossima volta dire di farmela un po più a punta anche frontalmente diciamo che così mi piace però potrei anche diciamo modificare un po la barba facendola un po più a punta alla prossima volta adesso starò a vedere quindi la prima volta mi sono affidato completamente i barbieri e che cosa avevano fatto loro soprattutto lateralmente avevano fatto questa cosa qua l'avevano fatta un po meno pronunciata qua diciamo così più o meno e qua sotto avevano lasciato una papagolgia no quindi era una barba lunga ma molto arrotondata molto arrotondata qua sotto e poco affusolata sembrava quasi come se io avessi il mento di braccio di ferro adesso tipo era una cosa così però vicino alla gola con più barba ancora che usciva no quindi a me sinceramente non piaceva frontalmente invece più o meno era così e quindi me la sono tagliata tutta quanta e ho deciso di farmela crescere nuovamente stavolta però avendo un'idea chiara in mente della barba che volevo no appunto quella che ho adesso a me piace così e quando sono andato dal barbiere stavolta ho dato io le indicazioni che volevo ovvero che qua lateralmente vedete volevo che mi venisse spuntata addirittura di recente causa covid non hanno potuto neanche trattarmela più di tanto diciamo che ho dovuto curarmela io più che altro a casa quindi ho avuto anche un po paura a dire al barbiere di farmela sfumata perché io qua non la volevo così definita la volevo più sfumata cioè che partiva da corta e si allungasse man mano però anche così non sta male comunque una cosa che avevo chiaramente era questo puntatina ai lati di modo che non sparasse qua vabbè col tempo è venuta fuori questa apertura diciamo in fondo che appunto adesso non so credo che mi farò spuntare anche qua ma soprattutto quello che volevo era lateralmente questa forma aerodinamica proprio l'ho detto no quando sono andato dal barbiere ho detto voglio la forma aerodinamica ho preso come riferimento la barba che aveva un modello su un giornale e nel tempo mi è cresciuta appunto la barba che avevo in mente di far crescere quindi questa qua una piccola dritta che voglio dare a tutti quelli che decidessero per la prima volta di farsi crescere la barba lunga non pensiate che i barbieri in autonomia sappiano quello che voi avete in mente esattamente come per i capelli quella barba è la stessa cosa non pecchiate di frivolezza non siate leggeri cercate la barba che volete e date le indicazioni al barbiere non affidatevi al loro gusto perché potrebbe essere quello giusto ma potrebbe anche non rispecchiare il vostro gusto e perderete parecchio tempo perché una volta data una forma alla barba poi dopo appunto modifiche evidenti potrebbero invece accorciare la barba e quindi vi ci vorrà di nuovo molto tempo per farla crescere tutto qua però un piccolo consiglio che volevo darvi ciao